Noi vogliamo mettere più sud e più famiglia durante il passaggio parlamentare per il resto siamo contenti dell'impianto perché è un impianto che toglie la tassa sulla prima casa aumenta il contante a 3.000 euro e realizza una serie di agevolazioni per le partite IVE una serie di agevolazioni per la famiglia che erano esattamente quelle che noi chiedevamo addirittura crediamo che sia scritta proprio con la mano destra cioè questa legge di stabilità è difficile che ne trovi un'altra uguale dal punto di vista direi filosofico e di politica economica anche durante i governi di centrodestra.